Per chi ama questa città, per chi ama il mare, per chi ama Pescara, sostanzialmente questa è una di quelle giornate ideali. Vento che rende l'aria così terza e lucida, le montagne con la neve sullo sfondo e appunto il mare. Mare con un porto che ha bisogno però di tornare a vivere come era un po' di anni fa e come è giusto che sia per una città che comunque ha le sue radici nel mare e nel porto. Una serie di lavori rivoluzionari con alcune modifiche importanti approvate in giunta, ce le illustra il sindaco Carlo Masci. Sì, nei giorni scorsi abbiamo inviato all'autorità portuale una delibera con cui deliniamo il nuovo porto che si sta realizzando. Oggi abbiamo realizzato il molo nord che arriva fino alla diga foranea che diventerà una bellissima passeggiata a mare. L'idea è quella di far partire la passeggiata dall'Inps per poi percorrere tutto il lungo fiume fino alla diga foranea e affacciarsi sul mare a una distanza di diverse centinaia di metri. Poi ci sarà il molo sud che sarà collegato alla diga foranea creando l'uscita del fiume verso il mare diretta e nella zona che si ricaverà tra la diga foranea e il molo sud ci sarà il nuovo porto. Un porto che potrà ospitare navi anche di stazza importante quindi potremo avere dei traghetti che ci collegheranno alla Croazia e ospitare anche le navi pescherecce che sono qui oggi all'interno del fiume. Poi c'è tutta questa parte invece che è una parte naturalistica bellissima che rimarrà tale dove c'è la lega novale dove c'è quest'osi del fratino dove nei giorni scorsi siamo venuti insieme ai ragazzi volontari del WWF a raccogliere purtroppo i rifiuti che tante persone incivili producono in quest'area. Questa area è una miniera di sabbia e quindi chiunque deve prelevare sabbia per fare il ripascimento in altre zone, parliamo di Francavilla o nella zona sud di Pescara, preleva la sabbia in questo spazio. Ne è stata prelevata tanta quindi oggi metteremo una calmierazione rispetto a quest'area però si potrà continuare a prelevare la sabbia nella zona ridosso dei trabocchi dove ce n'è ancora tanta e dove è bene che vada via. Quindi per capirci questa è la passeggiata qui arriva fino alla diga foranea e lì sarebbero posizionati i trabocchi. Noi abbiamo fatto questa richiesta all'autorità portuale di poter posizionare i trabocchi non soltanto nella zona nord del Molo che è questa qui che noi vediamo e che collega la spiaggia alla diga foranea ma anche nella zona che guarda proprio il mare cioè sulla diga foranea ma guardando il mare in modo che i trabocchi potranno tornare a pescare nel senso che saranno adeguati alla funzione per cui sono nati ed è molto importante questo perché l'idea è anche quella di far sì che Pescara possa diventare la porta della costa dei trabocchi perché Pescara è la porta dell'Abruzzo perché tutti coloro che arrivano in Abruzzo comunque arrivano a Pescara e credo che sia importante anche caratterizzare quest'area adriatica collegata alla costa dei trabocchi creando una porta della costa dei trabocchi che credo debba essere e possa essere Pescara anche perché i trabocchi a Pescara ci sono sempre stati.